Mi lascio ora con i nostri educatori finanziari Giussi Biondelli e Maurizio Poli per una pillola di educazione finanziaria. Subito dopo l'interruzione pubblicitaria vi aspetto invece con la terza parte di Sviluppo e Territorio e con l'intervista al presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzella. Dalla cassetta degli strumenti di educazione finanziaria per le imprese e le famiglie iniziamo a trattare qualcosa per le piccole e medie imprese Giussi. Qualcosa di agevolativo di Regione Lombardia. Cosa c'è di operativo? Allora parliamo di credito adesso Evolution, è un bando della Regione Lombardia ed è un bando che finanzia e sostiene le aziende per il credito circolante. Quindi significa che sostiene le aziende nella parte breve del ciclo finanziario dell'azienda. È ormai una misura rotativa, è stata rifinanziata a dicembre con 300 milioni di euro, prevede che le aziende possano accedere ad un finanziamento chirografario fino a 72 mesi, anche con un periodo di pre-ammortamento. Aziende della Lombardia Giussi, residenti di Lombardia? Chiaramente che abbiano la sede in Lombardia e che abbiano presentato almeno due bilanci. Queste aziende devono sostanzialmente fare la richiesta presso la propria banca di poter capire se la banca è convenzionata. Poi accedere a questo bando attraverso il portale della Regione Lombardia, inserire la richiesta e introdurre tutti i documenti che sono richiesti dall'istruttoria. Si otterrà un finanziamento a vari livelli. Abbiamo per le PMI un finanziamento che può andare da 30 mila a 800 mila euro. Per invece le mid-cap, le medie imprese, possono accedere ad un finanziamento che va da 100 mila euro fino a un milione e mezzo di euro. Oppure, novità dell'ultimo periodo Covid, è il fatto che anche i liberi professionisti possano accedere a questo tipo di finanziamento. E possono accedere per un finanziamento a partire da 18 mila euro fino a 200 mila euro. Come diciamo noi, questo è uno strumento che è un cacciavite a stella, non sono tutti uguali, quindi bisogna scegliere bene lo strumento. Questo operativo Giussi funzionale? Sì, è interessante perché prevede un contributo in conto interessi fino al 3% e inoltre è privo di richiesta di garanzie reali. Quindi sicuramente è un'opportunità per chi non ha la possibilità di offrire questo tipo di garanzia. Bene, Credito Adesso finisce qua. Alla prossima clip video di educazione finanziaria. Arrivederci.